Che bello Che bello E soltanto 3 minuti e 50 per poter parlare Perché la memoria fa schifo Ok Vi dico tutto questo con la grande dignità del cuscino di Topolino qui E il mio peluche di Asriel Proprio così tutto bello Che vi saluta Guardate quanto è carino il nostro cucciolotto E In realtà faccio un video adesso Serale molto ASMR La batteria del telefono è sotto il 5% Faccio questo video serale Perché non ho voglia di farlo nel mezzo del giorno E È tipo Che ore sono? Sono le 1.56 di notte Io spero mi si senta Perché Il volume è molto molto basso Cioè devo parlare in maniera molto bassa Perché sono quasi le 2 di notte Cosa vi devo dire in questi due minuti Molto simili Che i programmi per il 2020 ce li ho Se non scoppia la terza guerra mondiale E non vengo chiamato a combattere Ma tanto mi ammazzerò prima E Ok I piani per il canale ce li ho Sto registrando roba molto molto succosa Una serie che Adore Che vi piacerà Sono sicuro E la voglio come serie numero Ok La voglio come serie numero 30 Perché voglio che sia speciale E in modo Da rendere la serie numero 30 Dovrò prima pubblicare Due serie molto vecchie Cringe Quindi Prima vedrete delle cringiate Ma sarà roba molto molto veloce Quindi Una serie durerà poco Circa un'ora Perché sono 5 episodi Di cui uno Il file è corrotto Quindi diventano 4 Che vengono registrate i tempi Quindi avrete 4 episodi Di una serie non finita Ai tempi del 2014-15 Credo E un'altra serie Dei tempi del 2014 Che in realtà è il 2013 Che Pubblicherò In modo Che sia La serie numero 29 E in modo che la serie figa Sia la numero 30 Perché sarà molto molto bella Dopo quella Non so che cosa fare Quindi Il tempo è quasi finito E Con questa cosa Che vi giuro Con Asriel Che fa Pat pat Non era voluto Giuro che non era voluto Quindi io adesso Mi lascio E torno al mio chat porno Ciao Ciao Ho fatto un po' di pulito Nel telefono E adesso 8 minuti liberi Allora In realtà Questa clip Extra Non doveva essere Nel video Ma ci ho pensato Solamente adesso E quindi Ce la metto O meglio Non è che non ci ho pensato Che semplicemente Ho fatto una cosa Il giorno dopo E mi sono detto Stato cosa Potrei aggiungerla Nel vlog Dato che tanto Devo ancora iniziare A montarlo Quindi Di cosa volevo un attimo parlare Volevo parlare anche di Fammi vedere Se riesco a Il genio Il genio Sono tipo nano Però mi si vede Ok no Non farò così Rimarrà sempre un vlog Molto Sbarazzino e civillino Vedrete il vlog Solamente il mio naso Vedrete solamente il mio naso E questo è un vlog Molto molto professionale Allora Quello di cui Volevo parlare In questo momento È il fatto che Guarda che I miei denti Non lavati Quello di cui Volevo parlare In questo esatto momento È che Ne ho approfittato Anche per fare Un Per fare Un Canale di telegram Nuovo Ho voluto fare Un nuovo canale Di telegram E Ok adesso basta Ok adesso basta Vi ho già Dramatizzati abbastanza Ho creato Un nuovo canale Di telegram Che in realtà Volevo già fare Da un pezzo E quello che dicevo Nei vlog precedenti Oh mio dio Mi sta arrivando La botta di notifiche Cazzo Che veramente Che cosa doveva essere Ok Poggio il braccio Perché davvero Mi sta morendo Tutto qua Oddio c'è casino C'è casino Che coglioni Ok Intanto mi muoverò Alla ricerca di un posto Dove mi mettere il telefono Oh mio dio Fuori sembra tutto blu Porca Porca puttana Ok ora si No se mi metto si Sembra tutto blu E' stranissimo E' stranissimo Ops Ops I think I fucked up Volevo dire No Non so come mettermi Non so come mettermi Insomma No non perdiamoci in chiacchiere Io continuo a parlare Intanto cerco una locazione Ovviamente il nuovo canale Telegram Che volevo creare Riguarda Un archivio E' praticamente un archivio Di tutti i video che ho caricato Sia di Vento Divino Che di Venza Random Footage E forse caricherò qualche cazzata Del canale Broni Che è tanto eliminato Ma tanto Sono 5 video in croce Quindi andranno persi Perché volevo fare quel canale Perché come ho già spiegato Su Youtube non si sa mai Come va a finire la situazione Non si sa mai Che piega prende tutto su Youtube E quindi Ho voluto fare questa cosa Per sicurezza Quindi Niente E' un archivio Il canale se vi interessa Ve lo scrivo anche Nel momento in cui editerò Si chiama Vance Video Archive Dovereste trovarlo Abbastanza facilmente Vi scrivo Proprio qui sotto Come trovarlo E' sempre su Telegram E probabilmente Condividerò anche Sui canali Telegram Principale Una volta che avrò pubblicato Questo video Quindi Ehm Non so di preciso Che cos'altro dire Stavo sistemando un attimo Il mio peluccio di Napsablook Che è Gigantormi E' Gigantormi Signori Cioè Le dimensioni non potete Comprendere a pieno Però Mi metto un attimo Inverti E' Gigante E' Gigante Signori Non potete Immaginarlo Anch'io sono Trovatizzato Quando mi è arrivato Non me l'aspettavo Così grande Sentitevi liberi Di pendere questa frase Fuori contesto Vero tu Lì che prenderai questa frase Fuori contesto Allora Ehm No Non ho Non credo di avere altro da dire Perché Questa cosa A parte che Comunque ieri Non ci sarebbe stato Tempo di dirla Perché la memoria Del telefono era piena Avevo tre minuti Per registrare Ma poi Proprio perché Ieri sera Non mi era passato Nemmeno per l'anticamera Del cervello Di fare quel canale Oggi Infatti L'ho fatto oggi Mentre I miei stanno facendo cose Ho messo i messaggi Di presentazione lì Oggi Ehm Nulla Tutto qua Quindi Ehm Alla fine non ho trovato Un posto per la videocamera Però tanti saluti E Niente Fa un po' pandan Questa cosa Che ieri sera Ho mostrato Asriel E oggi Ho mostrato Bluki Fa molto pandan Questa cosa Ah Se qualcuno dà fastidio Sentire qualcun altro Che si scrocchia le ossa Soprattutto Del collo Spero di avervi fatti Stare male E niente Non credo avermi mostrato La mia collezione Di peluche Quindi In questo momento Dato che ci siamo Vi farò Vi farò vedere Tutto quanto Ce ne sono alcuni Nascosti In posti Che non si possono Vedere a occhio nudo E credo avere tipo 60 Più di 60 63 peluche No ma non sono pazzo Non sono pazzo Per nulla Comunque si Ho un po' di cose Via da buttare In camera Tipo questa testa Di creeper Che è qui dal 1800 Non so Non so se Nemmeno se si inquadra Ma tipo questa testa Di creeper Che è qui dal 1800 E prende soltanto Polvere Ma non so perché Non la butto via Quindi Niente È caccato È capitombolato È capitombolato Testa di creeper Rimani qua Per favore Se verrò Arruolato Nella terza guerra mondiale Mi porterò a quella Tutti mi crederanno Un creeper E scapperanno Perché esploderò Sarò letteralmente Un kamikazzo Che tra l'altro Vento divino Vuol dire kamikaze Io l'ho scoperto Soltanto dopo Aver fatto il nome del canale Però a quel punto Avevo già migliaia Di video registrati Io dicevo Sono vento divino 87 E non potevo più cambiare Che tristi Che tristi aneddoti Che aneddoti Veramente tristi Ah sì È vero Non ho inquadrato temi Mi sa Con il barattolino Delle offerte Che erano i soldi Per il caffè Insomma È nulla È finita qui È finita qui Vento divino È stato urnalato Nella terza guerra mondiale Il canale is gone Che erano i soldi